Soddisfatto, al di là del risultato ma della prestazione di un Benevento che era partito un po' più timido rispetto al Crotone ma poi pian piano è venuto fuori e sicuramente ha portato a casa una vittoria importante, meritata sul campo. Sì, sono contento della prestazione, del risultato. Diciamo che è partito meglio il Crotone, i primi 5-10 minuti. E' stato merito da parte della squadra avversaria. Poi la squadra è venuta fuori, ho visto sempre una squadra concentrata, una squadra che aveva voglia di fare risultato da subito. Al di là che la prima palla-golo l'ha avuta il Crotone, però la squadra non l'ho mai vista in difficoltà. A differenza magari di altre partite dove magari dopo un'azione pericolosa da parte della squadra avversaria qualche cosa sbagliavamo. Invece oggi ho visto una squadra veramente consapevole della propria forza e soprattutto consapevole di quello che voleva fare nell'arco dei 90 minuti. Sono contento perché è stata, al di là del risultato, una prestazione eccellente da parte di tutti dal punto di vista del sacrificio, della voglia di lottare palla su palla, dell'impegno sia chi ha giocato all'inizio che subentrato. Sono molto soddisfatto. In effetti la crescita è proprio il secondo tempo perché questa volta è entrato bene il Benevento anche nel secondo tempo rispetto alle altre partite dove nell'intervallo sembrava perdesse un po' di lucidità. E poi il valore aggiunto, il valore aggiunto nel senso che tutti danno il loro contributo, Manfredini, Vokic, Masciangelo. C'è una panchina importante ed è quella l'arma in più in un campionato come il campionato cadetto. Secondo me sì, perché la differenza non la fanno gli undici titolari, ma la differenza in questo campionato soprattutto, ma credo anche in Serie C, la differenza la fa il voler essere protagonisti tutti insieme. Non credo in una squadra con undici titolari, ma credo in una squadra dove ci sono 22-23 giocatori, dove tutti si devono sentire importanti perché poi lo spazio se lo ritagliano tutti. e quando fai entrare dei ragazzi e ti danno un contributo importante come quello di oggi significa che stiamo lavorando bene, soprattutto stanno lavorando bene loro e chi subentra si fa trovare pronto. Quindi per un allenatore sicuramente è una cosa molto molto importante perché poter contare sull'intera rosa non è da poco e quindi sono felice per chi ha giocato, per chi è subentrato. Mi dispiace chi non ha giocato, ma sono convinto che il campionato lo spazio con me lo troveranno tutti perché io credo molto in tutta la rosa e non negli undici titolari. Carmine. Mister, ben trovato, ne parlavamo già in altre occasioni. È una squadra che cresce per lettura lungo la sfida. Credo che questo sia il valore aggiunto della vittoria di Crotone, la certezza in più. Ma le chiedo, il gol di Letizia nasce dalla transizione, finalmente è quella che chiede perché a Cremona c'era un po' il rimpianto di non aver concretizzato in fase di ripartenza, di costruzione. È la ripartenza che chiede Fabio Caserta al suo Benevento, il gol di Letizia, no? Sì, voglio una squadra che deve saper giocare dal basso, deve saper interpretare bene i momenti della gara, soprattutto deve concretizzare le ripartenze perché il calcio è fatto tanto di ripartenze. Se andiamo ad analizzare le partite e come finiscono, da azione manovrata si vedono pochi gol, ma da ripartenze e calci piazzati se ne vedono tanti. Quindi noi dobbiamo essere bravi a saper sfruttare le ripartenze, saper sfruttare le occasioni che creiamo, anche in fase di manovra. Quindi oggi rispetto alle altre partite siamo stati più cinici sotto porta, anche se nel secondo tempo dopo il 2-0 potevamo fare il terzo e il quarto gol. Bisogna migliorare, c'è sempre da migliorare, però la strada è quella giusta perché vedo da parte dei ragazzi la voglia di migliorarsi sempre di più partita dopo partita. Billy. Mister, buonasera, complimenti ovviamente per questa doppia vittoria con le squadre calabresi, insomma nel giro di pochi giorni che hanno lanciato il Benevento al secondo posto in classifica, ma soprattutto sono i numeri a mio avviso quelli che danno l'idea di quanto questa squadra sia cresciuta, perché stiamo parlando della seconda miglior difesa, del quarto migliore attacco, la migliore differenza reti, la seconda squadra per possesso palla e la prima per falli subiti, insomma mi sembrano dati che stanno lì a testimoniare l'enorme crescita di questa squadra, a questo punto che cosa manca? Ad esempio è una squadra che commette pochi falli il Benevento, forse è su questo aspetto che deve migliorare ancora un po'? No, c'è tanto da migliorare, non solo su questo aspetto, bisogna falli nelle zone meno pericolose, perché poi se concediamo dei falli al limite dell'aria o vicino alla nostra porta diventano azioni pericolose, perché io credo tanto sui calci piazzati, su questo ci dobbiamo lavorare tanto, perché abbiamo dei buoni battitori e degli ottimi saltatori, quindi dobbiamo migliorare da questo punto di vista, perché abbiamo la possibilità di poter fare gol su calci piazzato. La squadra deve migliorare, c'è tanto da lavorare, non ci dobbiamo cullare da questi risultati positivi, perché poi il calcio, i pericoli stanno sempre dietro l'angolo, dobbiamo stare sempre concentrati, ripeto, questo campionato è un campionato difficile, anomalo, perché poi alla fine non c'è nessuna squadra, materassi, quindi bisogna stare sempre concentrati, lavorare sodo, non bisogna esaltarsi e bisogna stare con i piedi per terra, perché ripeto, è dura, bisogna lavorare ancora tanto. Sonia? Aspettando il Brescia, un venimento che ci aveva pronto anche per quanto riguarda le alternative, perché partita dopo partita hai provato diverse soluzioni, questo 4-2-3-1 però con interpreti diversi, a Crotone una maggiore copertura, un maggiore equilibrio più che altro, Conteglio esterno e Ionizza sottopunta rispetto magari a Sau trequartista, tra l'altro insomma Ionizza ha cambiato tre volte posizione, sottopunta, esterno a sinistra, poi è passato a destra, però soluzioni che rendono la squadra imprevedibile e pronta sempre sulla base delle caratteristiche, o se si gioca in casa o in trasferta. No, oggi ho deciso di non far giocare Sau perché aveva qualche problemino muscolare, non aveva recuperato e quindi ho preferito non rischiarlo come Viviani e anche Elia, quindi a livello fisico non stavano al 100%, ho preferito non rischiarli e quindi ho deciso di giocare con Brignola cercando di creare delle difficoltà al Crotone, dietro le linee del loro centrocampo. Spesso l'hanno fatto bene, Brignola al primo tempo deve essere, l'ho anche detto al ragazzo, deve essere più cattivo perché negli ultimi 20 metri quando viene dentro il campo deve concludere l'azione, deve cercare la porta perché il gol lo può fare anche con un tiro sporco, non bisogna per forza arrivare dentro all'area e calciare, però gli dobbiamo dare il tempo perché è un ragazzo che negli ultimi anni ha giocato poco, è un 99, ha tante immagini di miglioramento e ha giocato delle partite titolari che da tanto tempo non giocava come Teio, quindi il ritmo partita dopo un po' ti viene meno, la gamba, quindi bisogna avere il tempo materiale per far assimilare anche tante cose, magari nella passata stagione, magari facevano cose diverse sia l'uno che l'altro, quindi bisogna avere pazienza soprattutto con i giovani, però sono contento, ripeto, molto contento oggi del risultato e molto contento dei ragazzi che sono subentrati perché hanno dato veramente qualcosa in più che cerco da chi subentra, quindi sono contento e poi ci tenevo anche a dedicare questa vittoria a Letizia perché ha avuto negli ultimi giorni, non giorni sicuramente belli e felici per lui e per la sua famiglia e quindi la voglio dedicare a lui, è una vittoria anche storica dopo tanto tempo il Benevento, se non ero non aveva mai vinto a Crotone erano 44 anni quindi una vittoria che vale tanto e quindi la voglio dedicare a un ragazzo oltre a essere il capitano, oltre a dimostrare sempre l'attaccamento per questa città, per questa squadra e ci tengo perché anche ieri stava giù dal punto di vista mentale e avevo chiesto se voleva magari riposare un giorno e poi preparare la partita sinceramente non avevo neanche intenzione di farlo giocare oggi però credo tanto nelle motivazioni, soprattutto in certi momenti da parte dei ragazzi non l'avevo visto bene mentalmente, però ha dimostrato ancora una volta di avere un carattere importante e quindi voglio dedicare questa vittoria a lui e alla sua famiglia soprattutto perché negli ultimi giorni non sono stati belli per lui Eh sì, un ragazzo d'oro amato tra l'altro dal Benevento che a brevissimo avremo proprio i nostri microfoni Tornando al Brescia, Viviani, Elia, Sau saranno disponibili? Sì sì, credo sì sì, sono disponibili oggi, non l'ho voluto rischiare ma erano disponibili anche oggi, però ripeto non l'ho voluto rischiare perché c'è una partita ravvicinata e quindi ho preferito così poi quando in panchina hai anche delle ottime e varie alternative mi sembra anche giusto dare spazio anche agli altri